Sarà una società di Milano da allestire i mercatini di Natale che animeranno l'Aquila dal 2 dicembre al 2 gennaio con 30 casette di legno che verranno installate in vari punti della città, probabilmente dalla villa comunale sino a Piazza Duomo o anche per il corso si sta ancora valutando bene l'itinerario preciso del mercato. 26 mila euro circa come impegno di spesa e un vero e proprio villaggio di Natale con struttura adatta ad una città di montagna e con un artigianato di qualità e prodotti tipici. Il comune non leggerà le casette, accanto al mercato tipico ci sarà un villaggio di Babbo Natale come attrazione per i più piccoli al parco del castello, mentre l'aditorium ospiterà iniziative più culturali. Ci sarà anche il grande albero in piazza e probabilmente anche la pista di pattinaggio che ha avuto tanto successo. Saranno aperti i cortili dei palazzi storici per mostre ed eventi. Si sta lavorando pure sulle luci di Natale che non saranno quelle d'artista degli scorsi anni ma luminari e più semplici e tradizionali. L'assessore al turismo Fabrizio Aquilio auspica una grande risposta per rendere la città accogliente anche nel periodo di Natale. A me quello che interessa in questa occasione è dare la possibilità di visibilità anche a quella che è l'alta valenza dei nostri artigiani. Quindi io mi auguro che anche riescano ad essere collocati all'interno e facciano poi richiesta chiaramente per essere collocati all'interno di questo mercatino anche quella che sono soprattutto i nostri artisti perché noi abbiamo degli artigiani che sono veramente degli artisti. Oltre all'artigianato mi piacerebbe anche dare spazio all'interno di questi mercatini alla valorizzazione dei nostri prodotti DOP che sono veramente il nostro valore aggiunto e cercando di evidenziare all'interno proprio di questo tipo di mercato anche quelle che possono essere le proprietà specifiche dei nostri prodotti anche finalizzati al benessere. Chiaramente verrà dedicato uno spazio ai bambini. Nell'ambito dell'organizzazione stiamo dedicando anche spazio a quelle che sono poi le associazioni soprattutto le associazioni coreutiche della nostra città. In ogni caso cercheremo di allestire una città accogliente che già nell'ultimo ponte quello di Ogni Santi si è rivelata di nuovo meta turistica privilegiata e questo non può che farci piacere. Significa che tutto il lavoro che stiamo facendo come amministrazione e soprattutto anche il lavoro importante che stanno facendo tutti gli operatori nell'ambito dell'accoglienza turistica sta dando i suoi frutti. Quindi mi auguro che anche la stagione del Natale possa essere una stagione importante per la città continuare la sua vitalizzazione per quanto riguarda proprio la individuazione della città come meta della città e del suo territorio. Chiaramente noi parliamo sempre di una città allargata e che può essere da traino al territorio che la circonda. Grazie.